Ok, adesso guarda lui ancora, butta via tutto. Vedete, entrono insieme magari, dove è Paolo? Paolo, lo sai? Fermati, fermati, fermati. Adagio, 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 movimenti adagio. Adagio, 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 movimenti adagio. Vieni, vieni, vieni. E venite pure avanti anche camminando, venite pure avanti camminando. Vieni, vieni. Ma la prima volta, quella che hanno le portiere chiudevi a mano, il controllore che la chiudeva. Sì. Ma la lì comincia a chiudere le porte e al nostro ragione... Sbam! Quella sopra un po', sbam! Le hai fatte una volta... Sbam! 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 al binario 2, porca vacca, di là non possiamo mica andare però se arriva il treno, fa niente, fa niente, allora cammina, cammina più che, ecco cammina lì. Oh Michi, se volete fare il salto magari sullevatela, prendetela in braccio. C'è molto, facciatela via, facciatela, facciamo, hop! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!